speed finalmente al via dal primo gennaio inizia il rilascio delle identità digitali ai cittadini italiani un passaggio fondamentale per la modernizzazione del paese sì questo è veramente direi il primo importante risultato di crescita digitale quindi della strategia del governo per la digitalizzazione del paese e del progetto italia login ed è probabilmente la prima tappa della realizzazione del percorso allora a gennaio avremo le prime identità che saranno utilizzabili per circa 300 servizi delle amministrazioni che hanno partecipato al pilota e che sono alcune regioni alcuni comuni IMSS INAIL cioè quindi sostanzialmente alcune amministrazioni centrali alcune amministrazioni regionali e alcune amministrazioni locali cioè comuni in modo da avere comunque un set di servizi abbastanza completo che ci dia la possibilità ancora di tarare gli ultimi meccanismi il passaggio successivo quale sarà il passaggio successivo è il deployment a tutte le amministrazioni pubbliche cioè tutte le amministrazioni pubbliche nel 2016 dovranno passatemi il neologismo visto che ci siamo speedizzare i propri servizi e quindi rendere accettare l'identità speed per l'accesso ai propri servizi sempre a partire da gennaio ha annunciato oggi i cittadini potranno ricevere anche le notifiche dei pagamenti alla pia sul proprio smartphone questo è l'altro elemento allora con l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti adesione che è obbligatoria e che verrà fatta per tutte le amministrazioni entro la fine dell'anno quindi 31 12 2015 e che quindi poi avrà un periodo di spiegamento nel 2016 per chi non è ancora già operativo avremo ripeto l'adesione al nodo dei pagamenti con l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti verrà attivata anche per le ovviamente per i cittadini che lo vorranno perché è un servizio che potrà essere attivato la possibilità di ricevere notifiche sul proprio telefonino dell'andamento a buon fine del proprio pagamento altro importante progetto in rampa di lancio è l'anagrafe unica digitale ravenna e bagno cavallo sono le prime due amministrazioni coinvolte sì allora lì il percorso è un percorso che prevede abbiamo selezionato 26 comuni pilota i 26 comuni pilota che rappresentano sostanzialmente un po la complessità dei comuni italiani quindi alcuni grandi alcuni piccoli alcuni di montagna alcuni alcuni centri vicino alle città metropolitane in modo da rappresentare la complessità delle casistiche sono il nucleo pilota i primi due comuni del nucleo pilota partiranno appunto entro la fine dell'anno dal 14 di dicembre gli altri in rapida successione da gennaio e quindi dal 2016 anche qui l'obiettivo è di riuscire ad avere l'anagrafe unica in italia quindi un'unica soluzione di anagrafe almeno per la parte di gestione dei dati dal 2016 quindi con un deployment che avverrà diciamo dal maggio direi del 2016 per tutti i comuni italiani il processo di digitalizzazione dell'italia ha bisogno del contributo di tutti quale può essere il ruolo delle banche allora l'abi secondo me le banche hanno un ruolo fondamentale perché abbiamo uno dei temi fondamentali della modernizzazione e peraltro della trasparenza del paese è quello di portare in elettronico tutti i pagamenti portare in elettronico tutti i pagamenti è l'elemento che va a saldare il percorso che già abbiamo iniziato con la fatturazione elettronica per questo abbiamo ciclo attivo ciclo passivo in elettronica a questo punto veramente poi lì possiamo fare il secondo salto di qualità che è quello di una vera spending review basata a questo punto sull'analisi dei dati cioè sulla business intelligence e quindi con il sistema bancario con noi nel aiutarci a rompere ancora un po' di diffidenza nell'utilizzo degli strumenti elettronici per i pagamenti sicuramente aggiungiamo l'obiettivo il secondo elemento di aiuto sta sicuramente in speed allora noi stiamo lavorando attivamente anche con la banca d'italia perché speed venga riconosciuto come sistema accettato dal dal mondo bancario come sistema di autenticazione allora è chiaro che se noi arriviamo ad avere le banche come noi ci auguriamo nel orbita speed vuol dire avere veramente secondo me scollinato perché vuol dire avere un sistema che diventa veramente il ponte tra il pubblico e il privato